Ti piacciono i lecca-lecca al mirtillo? Ehi, era mio! Dove sono? E perché è tutto blu? È l'ora di un lecca-lecca! Il mio lecca-lecca! Oh, grazie! Ma l'altro era più grande! Siamo ancora vive, vero? Stiamo per mangiare qualcosa? Che ci sarà qui sotto? Benvenuti alla sfida del cibo blu! Pronti a vedere che c'è dentro? Cominciamo! Un anello di caramelle! Non si può dire di no ai gioielli, giusto? Ma di solito non si mangiano! Oh, è carino! Ed è perfetto per me! Piuttosto dolce, vero? Ho sempre sperato che arrivasse questo momento! È proprio come una favola! Chi stai guardando? Anna, rendimi l'uomo più felice al mondo! Resta con me per l'eternità! Vuoi sposarmi? Eh, Anna? Riprenditi, ragazza! Che c'è? Non posso neanche sperare adesso! Ti amo, ragazzo della mia fantasia! Non pensare che sia un vero diamante! È tutto un grande inganno! Sono condannata ad essere singola! E a mangiare caramelle per sempre! Stai bene, Julie? Non so come ci siamo arrivati! Vediamo che c'è nel tuo piatto! Sembra un push pop al limone! Sono così deliziosi! E sono così pieni di zucchero! Apriamolo! E adesso immergiamolo nello zucchero! Mi viene la colina in bocca! È dolce, ma con un finale aspro! Ok, penso che sia ora dell'immersione numero due! Sembra che Julie sia stata più fortunata questa volta! Fammi provare con questo! Vai! Le caramelle sono ancora più buone! Soprattutto con altro zucchero! Questo è molto più smielato di una proposta! Pronti per il prossimo round? Accidenti! Non sono reali, vero? È difficile da dire! Devo prenderli! Sono mollici! Ho sempre voluto gli occhi blu! Penso che si adattino bene al mio viso! Ma ciao! Julie, perché non apri il tuo? È un roll molto aspro! Vediamo un po'! Questo è un gran bel pezzo di caramella! Wow! Mi sfidi a mangiarlo tutto? Ed ecco alcuni occhi blu da abbinare! Questo sì che è piuttosto strano! È decisamente aspro, ma poi... diventa dolce! Chissà che sapore ha questo! C'è soltanto un modo per saperlo! È un marshmallow! Ripieno di marmellata di fragole! Sicuramente non è un vero bulbo oculare! Ma è comunque disgustoso da guardare! Ok, ci siamo quasi! Nel complesso è abbastanza buono! E la parte migliore? Ce ne sono due! Buon appetito, Anna! È stato un bel boccone! Io intanto assaggio la fragola! E in qualche modo... Questo ha un sapore migliore dell'altro! Questa caramella è troppa per me! Perché non ne prendi metà? Grazie! Facciamo una gara? Uno, due, tre, via! Farò soltanto una piccola modifica! Ecco qui! Fatto! Anna? Ho come l'impressione che tu abbia perso! So di poter mangiare in fretta, vedi? Lo ammetto, è stato impressionante! Vediamo che c'è dopo! Wow! Chissà cos'è! E a cosa servirà questo pulsante? Ehi, è come se le caramelle diventassero luminose! La mia lightsaber personale! Oh sì! Anna, no! Questo ha quasi tagliato il naso a Julie! Mentre Anna è nel suo mondo! Per la sicurezza di tutti è meglio fermarsi! Devono esserci delle caramelle qui dentro! Aha! Sembra un succo trasparente! E il gusto? Abbastanza forte da farmi venire le lacrime! Non perdiamo tempo! Me lo spruzzo direttamente in bocca! Anna, così è troppo! Ti... Cadrà la lingua! Oh! È veramente forte! È arrivato il mio turno? Una collana di caramelle nerd! Chissà se Julie riuscirà a mangiarle tutte! Beh, vale la pena provare, giusto? Sono un po' acidi all'inizio! Sono anche un po' strane, ad essere sinceri! Guardate che impegno! È in ottima forma, direi! Questa sì che è un'espressione da ricordare! Ma perché non spingerci oltre? Spruzziamo un po' di succo su queste caramelle! E... Oh mio Dio! È veramente aspro! Non riesco quasi più a sentire alcun sapore! La mia lingua ha fatto un viaggio! Pensi che potremmo fare un altro round? Beh, la cosa si fa interessante! Ma ci sono alcuni passi preliminari! Dentro sembra sabbia! Mi ricordano le giornate passate al mare! Quando sei sulla sabbia! Mentre scuoti le maracas se il sole tramonta sull'oceano! Julie? Torna qui! C'è bisogno di un medico professionista molto esperto! Chiamata urgente per la dottoressa Anna! Abbiamo una paziente in modalità vacanza! Potrebbe riportarla alla realtà! È molto semplice! Userò questo! Oh! Che è successo? Mi spiace! Ok, credo che dovrei aprirlo! Ecco che finiscono in bocca! Cominciano già a scoppietare! Lo senti? Sicuramente ti solleticherà la lingua! Guarda un po'! Sembra ci sia una festa lì dentro! È stato fantastico! Tocca fare un po' di rifornimento! Eccoci di nuovo! Questa volta la sensazione è pazzesca! Ti spiace se gioco un po' anch'io? Spruzzi acidi in arrivo! Allora? Sì, sta succedendo qualcosa! Ha un sapore fantastico! Ho la lingua indolenzita però! Vediamo cos'ha Anna! Sono piccole gocce succose! Sembrano buone, vero? Ma prima devo riempirle! Sembra un succo super acido! Dentro! Yum! Bisogna bilanciare lo zucchero, giusto? Ok, proviamoci! All'inizio è super acido! Poi riesce a sentire lo zucchero! Sì, mi piace questa roba! È molto dolce sulla lingua! Ma perché fermarsi ad uno, scusa? Mangiamoci tutto il piatto! Sono pazze per questi dolci! Una vera delizia agrodolce! Non voglio che finisca! Questo dovrebbe stuzzicarmi le papille gustative! È veramente tanto succo acido! Lo finirai tutto! È così che si fa... Cavolo, che fretta! Hai improvvisamente voglia di qualcosa di dolce? Non ti biasimiamo! Quale di queste delizie blu sceglieresti per prima? Condividi questo video con i tuoi amici per soddisfare tutta la loro golosità! E come sempre non dimenticate di iscrivervi alla nostra pagina YouTube di One2DrigoChallenge per altri fantastici video come questo! Alla prossima!